Ti servono crediti a prezzi bassissimi? Contatta Francesco Salamone con il link in descrizione e con il codice FUSE avrai subito un 5% di sconto! Bella ragazzi, carichi con un bugger, il gamer, oggi ragazzi, siamo con un bugger, siamo con un bugger badge, per favore fammi fare l'intro, con un bugger badge contro Ero e Lazza, ben giornate! Buongiorno ragazzi, sono Erry Lazza e oggi ragazzi sono qui nel canale di FUSE per un bugger importantissimo, un bugger che segnerà la storia del nostro caca canale Ebbene ragazzi, come vedete io ho insigne if, vai! Lorenzo! Insigne! Lorenzo! Insigne! Basta, basta! Ragazzi, allora, io mi scommetterò Lorenzo Insigne, 82 di valutazione, non è quello sif, ma è quello if, e Erry mi ha proposto di fare questo bugger match, però lui si scommette Pjanic, if, 85 di valutazione, che poi vale il doppio di insigne! Io punto valdo! Ovviamente! Ragazzi, questa è la mia formazione con ben 80 di valutazione, come gli 80 like che dovete mettere in due minuti in questo video! Subito, subito! Esatto! Facciate un like! Allora, prima cosa vi lascerò il link in descrizione del canale di Erry, passateci perché fa cagare come youtuber, quindi dovete andarci subito! Esatto, esatto! Ok ragazzi, giochiamo contro Betlem, FC! Allora, vediamo la squadra di Erry! Allora, vediamo la squadra di Erry, passateci subito! Oddio! Ma con i miei, quel mi hangar genito mi fa molta paura, mi fa molta paura anche Pjanic, diciamo... Fius, parta parla, this is Betlem, FC, style olympic, FIFA 16, ultimating, si comincia! Adesso si, che si comincia! Avanti Napoli, avanti, insigne! Alexis, ma che cazzo fa, fammo! No, Alexis, no! Io avevo paura, subito, vai! Vai, Diego! Vai, via via! Ammi seca! No! Maracca, ammi seca! Ma no, io, 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 mamma mia! Il candito! Ecconi, anche il candito nero, eccolo! Vai, Antonio! Ma come, ammelo! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Eccolo, no! Ma, io, ma, io, Diego! Mamma mia, Diego! Che cazzo mi ha preso! Sfa, gym! Ho visto cosa hai in testa? Un candito e in testa di una roba! È un freddo! È un freddo! Mi è rimasto il segno della popola! Devevo, che cazzo! Della cosa, allora, del cappello dei preti, come si chiamano? Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, Mareca! Sbaglia! No! Mareca! Con il cappello del prete! Mareca! Mareca! Con il cappello del prete! Lui alla cresta! Ma tu mi fai troppo ridere, non è giusto! Vai! Vai, dai, è finito il primo tempo, ragazzi! Primo tempo! Dominiamo noi! Vabbè, però, eri attaccato, diciamo! Però, San Diego Lopez ci salverà sempre, dovunque e comunque! Sì, devi venire! No, no, no! A Natale puoi! A Natale puoi fare cosa, Henry? I cantiti! Solo! Ci, Niang! 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 Spingi! Spingi, Niang! Oh, Romagnò! Ci! No! No, 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 no! La dita è ancora più bella, dico Lopez, perché si vede tutta la sciocca di capelli mancato! La sciocca! La sciocca! La sciocca! La sciocca! La sciocca! Anto! Anto! No, no, no! Che andremo! Mucca mamma! Vai, Borca, vai, Borca! Borca per Dzeko! Dzeko la sponda per mare! Che è un secca! Dzeko! Che è un secca! Ma cosa va? Ma cosa fa? Kiri kek! Kiri kek! Ma come vero! Ma come c'è in testa? Dzeko, c'è! Ma proprio un candito spezzettato, guarda! Nel culo! Sì! Ecco qui, abate! Ma è lui! Ragazzi! Vai, Marek! Per insegne! Insegne! Posizionate regolare! Insegne! 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 No, c'è, mo cap... Pita! Mua! Eeeh, Anze! Eeeh, Anze! Eeeh, Anze! Eeeh, Anze! Eeeh, Anze! Eeeh, Anze! l'immagine Poi ti faccio vedere con la canzone sincronizzata e quindi ai fatti faccio io faccio tipo lo faccio Lady di io faccio quando quando sto sopra la porta faccio la canzone cioè canta la canzone così gira gira La l'esistenza è proprio un incredibile 1 1 e andiamo così il capitano è 1 1 andiamo così rega oh ma oh ma oh oh gira 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 non va oh ma oh ma oh gira 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 too oh anche il raro non mi faccio non ho avuto la città la la fai schifo non so dai dai mi fanno ti pazzi vieni che corre sulla testa attenzione direttore fischi Vieni, 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 vieni Sulla sinistra attenzione Marecà msica Marecà Gira, gira, gira No Gira, gira, gira Gira, gira, gira Via Finisce qua raga Finisce qua Gira, gira, gira Mi sa, mi sa che faremo La, diciamo, la partita decisiva Per Pjanic e Insigne Il bugger di Pjanic e Insigne Nel canale di Henry Però solo se arriviamo Solo se arriviamo a 300 Mi piace, ragazzi 380 like, dai, così Ok, 380 like Prossimo Prossimo video sul mio canale Controfius Mi ha dato un quantito di traversa Passate nel canale di Henry Che lascerò qui sotto in descrizione Iscrivete al canale Lasciate un bel mi piace a questo video Arriviamo a 380 like E comprate i crediti A Francesco Salamone Per mettere un link in descrizione Su di codice Fuse Per il 5% di risconto Quindi Lasciate un bel mi piace E un commento Iscrivete al canale Qui Da Henry E noi ci prendiamo Un prossimo video Ma no E da Fuse Deve dire Lasciate un bel commento E un commento E un bel mi piace No Quindi lasciate un bel commento No come cazzo è Lasciate un bel commento Mi piace Ah si ok Vai vai Quindi lasciate un bel commento No Mi piace Ma no Che cazzo Quindi lasciate un bel mi piace E un commento Iscrivete al canale Qui da Henry E da Fuse E tutto No Ci ricordo Da giovi Da giovi Ciao ragazzi Oggi ragazzi Vi darò l'opportunità Di vincere questa mega console La PS4 da 1TB Sono i primi in Italia A portare questo mega contest A portare questo